La lista qui dell'11 che voi sarete felici di prendere è là nella stampante, ci sono alcune persone che sono venute, questo è già il quarto, quinto gruppo, grazie a Dio per queste persone che vanno e che vengono, noi li ringraziamo. E abbiamo letto la parte finale della prima epistola di San Pietro, capitolo 5, che ci dice di essere sobri, di allontanarci dal demonio, all'avversario, di resistere a lui, essere fermi nella fede, che lui ci perfezionerà e ci darà la forza e il coraggio di affrontare tutte le difficoltà. E allora se tu hai udito queste parole, io sono fiducioso che tu vorrai accettare il Signore Gesù, è stato dato l'invito e quindi vediamo se c'è qualcuno tra di voi che ha qualche domanda da fare e grazie a Dio.